Ciao a tutti e tutte, video velocissimo per aggiornarvi su un cambiamento che c'è stato con gli abbonamenti infatti dal primo di settembre tutti gli abbonati al primo livello non hanno più trovato o meglio ci sono ancora quelli vecchi ma non ne verranno più prodotti i POV integrali in pista sia prima sia durante i giri che post questo perché? Perché mi sono reso conto che quella tipologia di contenuti mi portava via del tempo prezioso nel flusso di lavoro generale per la produzione dei video e questo causava anche una difficoltà nell'aumentare la qualità dei video principali motivo per cui ho deciso di modificare questo vantaggio e di trasformarlo in un qualcosa che credo sia decisamente più utile e che possa piacervi molto di più cioè l'accesso in anteprima ai video una settimana prima che vengano presi pubblici per tutti tutti gli abbonati potranno guardare il video di racconto del weekend una settimana prima di tutti gli altri essendo i video visibili per una settimana solamente agli abbonati per me sarà molto più semplice interagire con voi e partecipare alle discussioni nei commenti sotto i video tutto il resto dei vantaggi rimane assolutamente invariato come rimangono invariati anche i prezzi dunque se non l'avete ancora fatto correte ad abbonarvi e vi ricordo che c'è ancora la possibilità di scendere in pista con me tutte le informazioni le trovate nel pulsante abbonati qui sotto e nel link che vi metto sempre qui sotto se non l'avete già fatto correte ad abbonarvi per entrare a far parte della The Black Arrow Community e io vi aspetto sul canale con tanti contenuti vecchi e nuovi che arriveranno nelle prossime settimane ciao